Ok, si inizia, il mio prossimo avversario dall'Ucraina, maestro internazionale, Vsatyuk, Volodymyr, giochiamo E4 contro di lui, andiamo con E4, e cavallo F3, ci riproviamo con un'apertura teorica, e qui lo sorprendiamo, andiamo verso la teoria, RG5, sorprendiamolo, donna D2, cerco di dare un'impostazione tattica creativa con arrocchi contrapposti. Arrocco corto per il bianco, arrocco lungo per me, e qui direi H4, e senza pensarci troppo, in un momento il mio pedone si troverà in HC, questo è il mio piano. Ok, H5 lo gioca lui, il che mi fa venire in mente è la necessità che ho nel cercare di giocare G4, quindi F3 mi serve, sostengo il pedone centrale, ma in alcuni casi mi aiuterà per sostenere il mio pedone G4. Giocare H4 è una mossa che, diciamo che preoccupa un po' il mio avversario, questo alfiere si trova sicuramente benissimo in C4, punta il re avversario, adesso credo che G4 gliela faccia lo stesso, come catturi, H5, perché questo alfiere potrebbe essere protagonista di una fastidiosa inchiodatura in F7. In fondo sono gli ultimi turni, quindi giochiamo per divertirci. Alfiere H6 è una mossa necessaria, occhio alfiere H6, la tattica tipica è cavallo per D4, perché su alfiere per G7, è su questa e A3 è un buon modo per arginare il suo attacco. Comunque alfiere H6, catturo, catturo, è molto pericoloso per lui. Allora, sono convinto che non può giocare questa. Probabilmente può provare con questa. Allora, su cavallo per E4, credo che tatticamente ci sia cavallo per C6. E su cavallo per D4, alfiere per G7, piuttosto l'alfiere forte, se lui gioca in un intermedio come questa, tra virgolette ci daremo la mano, perché donna H6 dovrebbe vincere. Ci diamo la mano, un'espressione tipica del gioco degli scacchi dal vivo, e quindi, diciamo, quando si dice ci diamo la mano, perché si intende che la partita si sia conclusa. D'accordo, come catturo? Di pedone con il pedone C. R per G7, senza pensarci troppo, direi. Ok, ho un dubbio. Questo lo condivido con voi. Se giocare in modo creativo con G4, permettendo pedone per B3, oppure giocare in modo più lineare, catturando in A4. Decido di giocare in modo più lineare, poi scateneremo i fuochi d'artificio più avanti. Alfiere B3, difendo. Un RB1 sarà sempre qualcosa di utile. Il mio segnale, scatenate l'inferno, diceva il gladiatore. Quindi su questa onda, su questa direttiva, cercheremo di giocare quanto prima a G4 per giocare a H5. Donna C7, chiudava il cavallo. E adesso credo che sia giunto il momento di fare G4. E se mi cattura H5. Quindi su donna C7 è importantissimo spostare il re, perché il cavallo mio era inchiodato, quindi questa difesa non c'era. H5. Temi tattici come non mai. Se lui mi cattura, entro con la donna. Se mi cattura di cavallo, sacrifico la torre. Sono tutte idee tematiche dell'apertura dragone. Ok, lui ripiega in difesa. Ciò mi permette di catturare qui. Lui riprende di pedone. Cavallo D5 sembra comunque essere interessante. Così come pedone per, il solfiere per, gioco questa. Oppure, non so, se H6, tra virgolette, neutralizza, sì, H6 neutralizza la sua torre. E deve difendere F7. Adesso direi che prendo. Prendo, ho un'idea nascosta. Perché se il cavallo va via, interviene il cavallo qui. Torre C1. Un cavallo D5. Anche torre F1. Qui ho tante idee. Mi viene in mente torre C1 approfittando dalle scoperte del cavallo. Torre F1 cercando di coordinare i pezzi indirettamente su F7. E probabilmente è quella mossa che cerco. Vedo che c'è una coordinazione su F7 difficile da difendere. E la pressione su F7 potrebbe aumentare collegando un cavallo D5. Perché in caso di cattura interviene la donna e l'attacco su F7 sarà più forte. Sì, i numeri del canale crescono leggermente, però ammetto che non gli sto dedicando tantissimo tempo. O meglio, vi assicuro che una diretta è tantissimo, è parecchio tempo. Però probabilmente per crescere bisognerebbe fare più dirette. Ok, H7. H7. Mi piace perché arriva la donna. Aggiungiamo una minaccia dopo l'altra. Il mio avversario è un maestro internazionale. Che sia questa la partita più bella del mio title Tuesday di oggi? E qui c'è una tattica. Valtendo un po'. Catturo. Il cavallo è inchiodato perché doveva difendere F7. Ma il problema principale è arrivata qui. Donna H6 vince perché minaccia il cavallo. Minaccia R8, sera G8, donna per G6. E su questa donna per H7 è sufficiente. Pezzo in più, attacco su F7. Non c'è controgioco. E questa è sicuramente la partita migliore. Donna per, attacco anche questo. E scacco. Scacco. La prossima diamo matto con la torre. Ok. Arrocchi contrapposti. Avete visto un dragone. Come gestire con arrocchi contrapposti? Chiederò al... Chiederò a chi edita i video di editare questa partita perché è didatticamente molto valida. Adesso ve la rimostro. Quindi apertura dragone con un'impostazione un po' strana. Quindi questa donna D2, piuttosto che giocare F3 immediata, donna D2 ci sta. Magari la mossa strana è alfiere G5. E poi l'attacco è abbastanza lineare. Quindi a questo punto so che devo fare G4. E si potrebbe anche valutare di fare G4 subito. Però come dicevo, devo decidere se impostare un gioco aggressivo, tipo G4 immediata. oppure un gioco più temerario, cioè più tranquillo. Ho deciso per il gioco più tranquillo. Nel momento in cui ho organizzato la mia difesa, si arriva semplicemente con il pedone G che va in avanti, il pedone H che va in avanti. E a questo punto arriva il matto, o comunque sia l'attacco vincente su F7. che era il motivo del modi gioco. E anche su H7. Quindi questa è una buona partita.